Ciao Marcello, ciao amici Juventinazzi di Topland e di Top Planet, ciao Deglio, sì grande Juve e vai, sì, doppiamente felice oggi, è stata una partita, una bella partita, anzi vorrei innanzitutto dire due parole sulla partita di Mercoledì di Champion, che è stata veramente una partita al cardiopalma, perché alla fine non avrei mai più pensato di, cioè bisogna crederci fino alla fine sì, ma dopo due gol così, uno vicino all'altro, e poi dopo un primo tempo che non abbiamo giocato bene, poi siamo riusciti a sbancare Wembley, doppiamente felice, adesso siamo ai quarti, però quello dovremmo pensarci dopo, vedremo chi ci toccherà, io vorrei prendere il Real, perché secondo me è una partita che nelle due partite si può battere, comunque niente, ci penseremo poi, sulla partita di oggi devo dire che la gioia, il grande di Vala, che finalmente si è sbloccato, ha fatto un gol dei suoi, di punizione, e poi ha regalato, Higuain ci ha regalato, gli ha regalato l'assist del 2-0, dispiace per Higuain che non è riuscito a segnare su rigore, pensavo che lo tirasse di bala, anche perché dopo gli ultimi rigori, che Higuain si era sbagliato, pensavo lo tirasse di bala, comunque va bene così, l'importante oggi era vincere questa partita che non era facile, perché contro l'Udinese sono sempre state partite difficili, sono sempre state partite difficili, e niente, devo dire, oggi tra i migliori, oggi sono stati i migliori, devo dire, di bala e da Gras Costa, che veramente da Gras Costa quando gioca è veramente straordinario, perché salta sempre l'uomo, è veramente un grande giocatore, e poi un po', forse oggi pensavo che Allegri mettesse Oved, siccome Chiellini dopo la grande partita di mercoledì pensavo riposassi, invece ha giocato lo stesso, ma devo dire che ha giocato bene anche oggi, e niente, adesso dobbiamo tenere la testa della classifica, e mercoledì anche fare una grande partita contro la Tannite, cercare di vincere e mettere pressione al Napoli, niente, ti saluto Marcello e fino alla fine, forza Juve, sì!